La digitalizzazione delle pratiche doganali con il triplice obiettivo di semplificare, velocizzare e unificare passa attraverso la firma del protocollo siglato tra il direttore di Confindustria Piacenza Cesare Betti e Franco Letrari, direttore interregionale Emilia Romagna Marche dell'Agenzia delle Dogane. Piacenza è un punto strategico della logistica nazionale, quindi la Dogana deve cercare di abbinare la velocità dei traffici con il controllo. I benefici della digitalizzazione finalizzata a semplificare e facilitare l'accesso ai servizi da parte delle imprese e a migliorare i processi e i servizi erogati dall'ufficio delle Dogane, anche in funzione di garanzia della concorrenza, sono stati illustrati da Laura Castellani, direttore centrale della direzione Organizzazione e Digital Transformation dell'Agenzia. Cercare di fare meglio, ridurre i costi è forse il principio più importante, cercare di medesimarsi nelle difficoltà le aziende, quindi ogni adempimento amministrativo non assolutamente necessario, ridurlo o semplificarlo. Presenti gli operatori della logistica che hanno colto l'occasione per esporre le loro particolari esigenze, in particolare la necessità di un ufficio Dogane decentrato a Castel San Giovanni, secondo pollo logistico per importanza sul territorio piacentino. Nell'ottica di ridurre i tempi di sdoganamento, perché il tempo è denaro, vedere nei poli aggiuntivi oltre la sede principale, vedere di avvicinare il mondo delle Dogane alle aziende sul territorio.